Proroga per Florio, beffa per Rosato. Il titolo del quotidiano Buongiorno stamani ne dico l'anticipa le ultime mosse del governatore Caldoro per le nomine nella sanità dei commissari delle sette ASL e delle tre aziende ospedaliere più rilevanti, tra le quali figura il Moscati di Avellino. Si profila dunque l'ennesima proroga di almeno due mesi, uno slittamento determinato non solo da motivi tecnici ma soprattutto da questioni politiche ancora irrisolte nel rapporto con l'Udc. Sì, sullo sfondo c'è l'accordo per le amministrative, lo scudo crociato andrà da solo a Napoli senza se e senza ma, un'espressione utilizzata nel comunicato ufficiale di Lorenzo Cesa che non lascia spazio a dubbi e che contrasta fortemente con il diktat del coordinatore regionale Nicola Cosentino o l'Udc sta dentro o sta fuori da tutto dalla giunta regionale alle ASL. Questo significa che per ora all'ASL e all'azienda ospedaliere avellinese restano gli attuali commissari fino alle elezioni amministrative di maggio per verificare se tiene l'accordo PDL-Udc. E per il manager Rosato c'è ancora da attendere, intanto sempre sul fronte sanitario si registra un'altra importante novità. Da lunedì si insedia Mario Morlacco, nuovo subcommissario della sanità al posto di Giuseppe Zuccatelli, si dedicherà insieme ad Achille Coppola al fianco del governatore Caldoro ai conti in rosso della sanità campana. Hotel Ristorante La Locandina, un'atmosfera da sogno per una splendida cerimonia.